Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali per il Volontariato E la vostra capacità organizzativa veramente eccezionale E ora consentitemi, visto che stiamo celebrando l'apertura dell'anno europeo del volontariato Il Volontariato ha una forte valenza educativa che può e deve aiutare tutti a scoprire la cultura della solidarietà, della non discriminazione, dello sviluppo sostenibile, del rispetto del prossimo e della cittadinanza responsabile. L'anno europeo del volontariato può essere considerato come un'ulteriore possibilità offerta per affermare con più forza i diritti dei più deboli Occasione di far quadrato in un momento oserei dire storico per questa società che è attraversata da una crisi non solo economica ma soprattutto di valori che si sta insinuando sempre più nelle nostre comunità. La partecipazione a manifestazioni come questa ci riempiono di orgoglio e ci danno la forza di poter proseguire con rinnovato vigore e impegno nella quotidiana lotta contro le disuguaglianze. Per dare risposte concrete a tutti coloro che si rivolgono al mondo del volontariato con fiducia e speranza e dare agli stessi volontari il coraggio di affrontare i bisogni vecchi e nuovi con rinnovato spirito di solidarietà. Mi auguro che l'anno europeo del volontariato contribuisca per la definizione di un quadro normativo stabile che dia certezza nel tempo su risorse finanziarie che aiutino il volontariato a meglio strutturarsi. Il rischio però è che questo anno europeo diventi solo un momento celebrativo e notevole ma sta a noi evitare che ciò capiti e che venga finalmente riconosciuto il capitale sociale espresso dal volontariato e questo valorizzato. E qui un ruolo importante, consentitemi, lo assumono le fondazioni di origine bancaria che proprio al finanziamento di cui è la legge 266 del 91, contribuiscono alla professionalizzazione e alla qualificazione del volontariato. In questo processo condiviso e partecipativo, gli obiettivi a cui tendono tutti i soggetti coinvolti sono la valorizzazione del volontariato e del suo impatto per la costruzione di meccanismi stabili e durevoli che lo supportano in quanto elemento fondante della cittadinanza attiva, condivisa e solidale. La diffusione delle iniziative e delle informazioni a livello locale e la valorizzazione dei risultati e dell'impatto utile e accessibile alle organizzazioni di territoriali e alle loro reti. La pratica del partenariato e del lavoro di rette attraverso iniziative comuni e coprogettate attraverso l'aperta condivisione di buoni esempi e buone prassi. Il rafforzamento delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni che coinvolgono i volontari per migliorare la qualità delle attività all'interno delle strutture organizzative, per facilitare le attività di volontariato e per aiutare le stesse organizzazioni ad attuare nuovi tipi di volontariato e ad aprirsi alle nuove modalità di approccio al fine di promuovere e l'amoro condiviso di rette, la mobilità, la cooperazione e le sinergie nell'ambito della società civile e tra società civile e altri settori della comunità. Il riconoscimento che attraverso le attività del volontariato si acquisiscono competenze e capacità in un processo di apprendimento permanente, la sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni per aumentare la consapevolezza generale sui valori portanti della cultura del volontariato come espressione della partecipazione civica. Bene, buon anno del volontariato a tutti! Grazie Presidente!